Passeggiata al Monte Casto salendo da Tavigliano Il percorso inizia sulla pista tagliafuoco in mezzo al bosco Incontriamo la vasca utilizzata per il servizio anti-incendio La pista tagliafuoco diventa ora quasi pianeggiante Raggiungiamo un punto panoramico dal quale si può godere una vista sulla valle e sulle vicine montagne Peccato per queste nuvole che le nascondono un po' L'area picnic in mezzo ai prati in una posizione molto panoramica Da questa posizione possiamo avere una vista molto ampia sulle montagne circostanti Qui si incontrano spesso mandri e egregi Procediamo verso la cima Il sentiero diventa più ripido I cartelli informativi ci consentono di scoprire curiosità sull'alberi e luogo Sulla cima troviamo dei cartelli con dei proverbi in dialetto e dei bei prati per riposare Sulla cima troviamo dei cartelli con dei proverbi in dialetto e dei per evitare Grazie.